L'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacorata Concezione, a Roma, in piazza di Spagna, il Papa depone un mazzo di fiori ai piri di uno stato di Maria. A Lourdes, nello stesso luogo dove la Vergine ha detto, sono l'Immacorata Concezione, il santuario vi invita a ripostare una rossa alla grotta per renderle lo stesso omaggio. Offrite una rossa a Nostra Signora di Lourdes su www.rourdes-france.org. Noi la deposteremo per voi alla grotta l'8 dicembre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV2000 e il sito internet del Santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Affidiamo a Maria le intenzioni del Santo Padre, il Papa Francesco. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono. Preghiamo per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, la Vergine Immacolata. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'Angelo a Maria. Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che hai detto. Maria, visitata dallo Spirito, hai ricevuto nel tuo grembo il Verbo di Dio, hai dato al mondo la vita. In te l'uomo divenne dimora dell'Eterno. Fa che edifichiamo con te il Regno del Signore, Regno di giustizia e di pace per tutti e per sempre. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Sassi oggi il nostro pane, curiato, e rimetti a noi i nostri debili, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci giurra in detrazione, ma liberaci dal male. Ave. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi mercatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Qua vera e la bencigia e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo. Con Elisabetta, anche noi ripetiamo il frutto del tuo grembo. Infatti, in Lui, nel Signore, riconosciamo il grande dono della misericordia del Padre. Egli non ci ha lasciati soli e smarriti, ma ci ha visitato come sole che sorge dall'alto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debili, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci surra in detrazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Tiede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Gesù, nato in una stalla, perché nella locanda non c'era posto. Benedici tutti coloro che offrono ospitalità. Da te siamo accolti al di là della nostra condizione. Su di noi versi l'olio e il vino della misericordia, e ci offri una locanda. Ti rendiamo grazie. Spalanca la porta del nostro cuore, e rendi la nostra esistenza un luogo di accoglienza e di umanità vera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci giurre in tendazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. O Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, hai obbedito alla legge ed hai offerto il tuo Figlio. Vogliamo ringraziarti per la premura con cui ci accompagni nel cammino della vita. Ti chiediamo, presentaci oggi nuovamente Dio, nostro unico bene, perché la nostra vita, consumata dall'amore, sia sacrificio santo e a Lui gradito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rivetti a noi i nostri debiti, come noi rivettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in detrazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo tre giorni, Maria e Giuseppe lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Maria, sono tante le volte che anche noi non comprendiamo il disegno di Dio. Fa che l'umiltà e la sofferenza del tuo non capire le parole di Gesù al Tempio siano sostegno all'insofferenza, all'orgoglio e talvolta alla superbia del nostro non capire. Medica con la tua dolcezza, col tuo silenzio paziente, la ribellione che spesso accompagna le riflessioni sulla nostra vita, sulla vita delle comunità e della Chiesa. Padre nostro, che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane, come in amico, e rimetti a noi i nostri dei pelli, come noi li rimettiamo ai nostri dei pelli. E non ci giurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri redditori, e non ci indurre in detenzione e valendo la città al pane. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. Ad te clamamos, exules fili lieve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, ad avvocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad annos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Maria, Madre Immacolata, in questo luogo di grazia ti preghiamo, affinché possiamo compiere con fedeltà la volontà del Padre. Siamo consapevoli che senza il tuo Figlio non possiamo fare nulla di buono. Madre della Misericordia, è stato il tuo Figlio Gesù che ci ha chiesto di diventare come Lui, luce del mondo e sale della terra. Aiutaci con la tua potente intercessione a non venire mai meno a questa sublime vocazione, a non cedere ai nostri egoismi, alle lusinghe del mondo e alle suggestioni del maligno. Madre della Chiesa, non solo a parole ma con la vita, vogliamo ripetere umilmente, giorno dopo giorno, la nostra umile disponibilità. Guidati da te, vogliamo essere testimoni della presenza del tuo Figlio, affinché il mondo conosca il suo amore e la sua compassione per noi tutti. Madre nostra da sempre, non ti stancare di visitarci, di consolarci e di sostenerci. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega di noi, Santa Bernadette, prega di noi, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sarà mio diletto vederti ancora qui, ritornata spetto per quindici di. Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù recordato. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.